Pace fatta tra il sindaco di Limbadi e la presidente dell'associazione antimafia riferimenti. L'incontro chiarificatore è avvenuto ieri, tra sorrisi di rito e scuse ufficiali, oggetto del contendere la cerimonia di inaugurazione dell'università antimafia alla quale Adriana Musella non era stata invitata. Una dimenticanza, nulla di più, ha ribadito pure ieri il primo cittadino di Limbadi. Abbiamo fatto tutto per come doveva essere fatto, come poi d'altronde è stato sottolineato più volte con forza dal ministro. Peccato però che l'inaugurazione sia saltata. No, è stata rinviata. Magari il primo invito è la Musella. Ma la Musella non deve essere invitata, deve essere lei ad essere partecipata, perché io mi invito a casa mia, ma scherziamo. Continua a parlare invece di una mancanza di rispetto Adriana Musella. Certo è che noi non siamo stati, voglio dire, coinvolti in un'inaugurazione che chiaramente ci interessava da vicino, come se io venissi a casa sua a festeggiare il suo compleanno e l'inviderei. Ecco, la sostanza è questa. Altro dubbio sollevato dalla presidente antimafia riguardava la spesa prevista per l'organizzazione dell'evento, 30.000 euro. Somma, si è giustificato il sindaco, prevista dal capitolato d'appalto e che invece ha replicato la Musella, potrebbe essere investita per l'acquisto di altri beni necessari al completamento dell'opera. Possiamo impiegare questi fondi, peraltro, perché la struttura manca d'altro. Se pensate che nel residence non ci sono lenzuola, coperte, cuscini, asciugamani, voglio dire, c'è roba concreta da fare, più che altro. Grazie. 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 Grazie.